Città metropolitana Signora, hai detto una cosa molto bella, portare la vita in luoghi di morte Eh sì, sottrarre un bene confiscato alla Camurra ha un effetto enorme perché incidi sul profitto economico, sull'aspetto molto simbolico delle mafie che è il controllo del territorio non lo hanno più loro ma lo ha lo Stato e soprattutto lo hanno i cittadini che si riappropriano di quei territori e laddove c'è morte c'è vita perché se guardiamo i progetti per i diversamente abili, Alzheimer, orti urbani, persone in difficoltà è molto bello è quello che stiamo facendo anche nella città di Napoli credo che abbiamo raggiunto il primato nel nostro territorio del maggior numero di beni che stiamo affidando attraverso procedure di evidenza pubblica al comune di Napoli, adesso è una città metropolitana questi sono fatti, non parole, siccome si fanno anche molte chiacchiere quando si parla di lotta alla Camurra e lotta alle mafie bisogna produrre soprattutto fatti, i fatti camminano sulle gambe di chi è credibile Sì, la vostra mattina il Tribunale di Napoli ha assolto il capo della Polizia Panza e l'ex Presidente della Regione Bassolino per l'emergenza rifiuti, il processo che li vedeva imputati, lei vuole commentare questa soluzione? Innanzitutto mi sembra una parte di una serie di processi che hanno riguardato alcune persone che si sono rese responsabili del più grave scempio che questa terra abbia mai avuto non commento in alcun modo questa sentenza, semplicemente a me come persona che ha ereditato quello scempio mi interessa la verità giudiziaria ma mi interessa soprattutto fare in modo che mai più, mai più questi territori possano vivere quello scempio o vedere nuovamente i protagonisti di quello scempio che diventano protagonisti della vita politica sono scenari diversi, una cosa è la via giudiziaria e una cosa è la via politica noi abbiamo cancellato quell'infamia, quell'infamia che ancora oggi attraversa certe volte le immagini del mondo e di qualche giorno fa, che addirittura il più importante quotidiano nazionale ha dovuto dire Parigi come Napoli in occasione di un'emergenza rifiuti momentanea a Parigi per uno sciopero e portavano alle immagini quella esperienza io credo che sul piano giudiziario qualcuno debba pagare per quello che è accaduto ma non mi riferisco a questo processo perché questo processo credo che sia una parte molto residuale di quel tema lì spiace che insomma sul piano giudiziario in questi anni non si è fin in fondo trovato il responsabile e i responsabili di questa storia che è passata come terra dei fuochi, come emergenza rifiuti noi ne paghiamo ancora le conseguenze, ne paghiamo le conseguenze d'immagine, ne paghiamo le conseguenze economiche perché approfitto di questa domanda per ricordare a tutti che nella nostra bolletta ancora tutti noi come cittadini paghiamo l'irresponsabilità, l'incapacità e l'affarismo di chi in quegli anni ha imperato politicamente, economicamente e mafiosamente nei nostri territori quindi noi andiamo avanti e abbiamo dimostrato che l'emergenza rifiuti è finita è finita con l'onestà, col coraggio, gettando fuori la camurra dal ciclo dei rifiuti e andiamo avanti anche qui in città metropolitana, lo stesso lavoro lo stiamo facendo con Sappana